Cerchia, lancia in avanti, vediamo un po', verso Romero, isolato, colpo di testa, attenzione che si porta da solo la palla in avanti Romero, si ferma per far salire la squadra, parte adesso Rondinelli a destra, Romero, Romero lo vede adesso, la palla in corridoio per lui, l'ha dato corto dell'aria, entra in corridoio per Rondinelli, mette dentro sul primo palo, c'era Mancosuma, era coperto da un avversario, la palla viene anticipata, giunta